Una grande prestazione da parte di tutta la squadra, la vittoria è la migliore ricompensa ma anche l'abbraccio dei tifosi racconta molto di questo trionfo. Una partita vivace in cui non sono mancate le occasioni da gol, entrambe le squadre ce l'hanno messa tutta per avere la meglio sugli avversari. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.